Le mamme hanno spesso delle voglie particolari, per cui un classico è la voglia di fragole oppure la voglia di vino rosso. La voglia non è pericolosa e può essere assecondata laddove non sia chiaramente un pericolo, come ad esempio bere troppo vino rosso, ma dove sia consentita va sicuramente assecondata, per cui rispettiamo le voglie in gravidanza. Grazie